Mentre tutti sono rimasti interdetti davanti all'ennesima segnalazione su Mario, arrivano altri pesanti retroscena dalle ultime registrazioni del programma, e il percorso di Ida Platano. Mentre tutti sono rimasti interdetti, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la segnalazione su Mario sarebbe vera, e confermata dai diretti interessati, anche se il campano e la ragazza con la quale è stato avvistato hanno. Secondo quanto riportato da Lorenzo, parole che hanno portato Ida alla chiusura definitiva con il campano ma il vero colpo di scena arriva da Pierpaolo, il rivale, il quale entra in studio come una furia dicendo di essere stato preso. Ha accusato di Ida di essere stato preso ad uno come Mario dando meno spazio a lui che invece si è sempre comportato bene ed è aver voluto passare il messaggio di quella sensibile che cercava certi, a quel punto ha lasciato lo studio dietro di lui anche Ida che se n'è andata in lacrime. A quel punto ha lasciato lo studio dietro di lui anche Ida che se n'è andata in lacrime.